Hey, nothing you can say, nothing's gonna trade what you've done to me, now it's time to shine, I'm gonna take what's mine Eccoci Ok Cosa è la? Check Trade Trophy, ah non è ancora dei fake up, vabbè però dobbiamo... Vincere fa sempre piacere diciamo Dai! Sempre quei passaggi di merda proprio li fate, non so che cazzo di visione abbiate Vabbè, che tiro di merda aveva tentato Non la stoppa bene però riesce a passare, passa Narzari che è abbastanza lento Però forse riesce a entrare, passagliela, dai due volte, te l'ha deviata lo stesso tipo, due volte, in scivolata, come cazzo è possibile? Dagliela Quan di merda Rose la mette in mezzo per Massankà di nuovo lui Nessuno vuole scattare, eccolo qui che arriva Shetri Shetri che si accentra in qualche modo, Massankà si deve girare La svirgola completamente, la cilecca proprio Attenzione, Narzari la ruba Dai Massankà, la lentezza, poi è caduto come un po' lentone E sei infortunato addirittura Mamma mia, Massankà, ma che cazzo di mezza sega sei? Guarda, Dunn che vuole scattare E quanto perri riesce ad andarci? Passagliela Non ci credo, Dunn Era un gol gratuito Dunn, mi senti, dovresti andare un po' più avanti, bravo Ci ho provato un po' da distante, sinceramente Bello Shetri, peccato Sono tutti molto molto stanchi Non che me li aspettassi diversamente, sinceramente Abbiamo Dunn che è fresco perché è entrato a posto del sostituto Ma in avanti è l'inferno Proviamo a cambiare le fasce Prova il tiro! Chi cazzo eri? Ahmed? Dai, trovalo lì! Dagliela sull'altro piede, porca puttana C'era quasi, ma perché doveva stopparla con il sinistro? La lasci correre E te lo trovavi sul destro pronto al tiro Guardali, sì E Narzari non sa la stopparla Stopparla Questi passaggini di merda Sì! Narzari, sei fuori Non me ne frega un cazzo, non hai fatto niente Ma ti pare? Come fai a mancarla? Ridalla al centro, Narzari! Scusa, la parata? È riuscita a pararla una cosa del genere Dai Narzari, niente Non ce la fa Narzari Ha il culo di passare Ma non riesce a tirare Non so come Porca puttana Bella Niente Non è fallo mai Oh, oh Dai, dai, dai Non ci credo Ma perché Viteocom? Oh, arriva la palla Aspetta che la stoppa Così va Rallentatore E non farti autogol, è bello Bravo, Edwards Continua così Vabbè Narzari continua a far cagate su cagate Però riesce a prenderla Attentaci Narzari Ti sto iniziando a detestare Sì, scettri Vedi come si fa a Narzari Porca puttana Scettri Un cacchio di tiro Ho provato O due forse Ma l'ha segnato Tu ne hai provati dieci milioni Bella Conlan Tienla, tienla, tienla qua Fregatene di tutto il resto Tienla Nenche tenerla di fisico Vittoria Con uno scettri Che è ritornato Segnando ben due gol In due partite Bravo, bravo scettri Iniziamo con l'ultima giornata Di mercato Quindi abbiamo L'ultima possibilità Per conquistare qualcuno Per comprare qualcuno In realtà Qui vediamo che Massan Cassa È infortunato per Tre mesi Solamente tre mesi Porca di quella vacca Tre mesi Ega È un grande colpo Perché non c'era Turner L'altra volta? Quando l'ho sostituito Non esisteva Ok Cosa c'è? Ah sì sì Certo che lo salvo Abbiamo altri attaccanti Cioè questo Però prima di accettare La sua Perché questo è uno Dagli svincolate Visto che aveva accettato L'altra volta L'attaccante con 90 di forza Iberne Se non mi sbaglio Si chiamava Sì Quindi dovrei Vedere le mie finanze Soprattutto se posso Permettermi di prendere Tutte e due Tecnicamente sì Perché con lui Penso Spendo 4000 Di budget Stipendi Anche con l'altro Quindi vado a 8000 E spendo 175.000 Di Budget Trasferimenti Quindi posso permettermi Li entrambi Conviene Prenderci li entrambi Non provare a uscire Ogni volta Primo cerchio E una volta Ho fatta anche la cazzata E Quindi Lo prendiamo? Io direi di sì Anche perché Se l'altro non ci accetta Noi siamo nella merda Abbiamo i giocatori Perché ce li abbiamo In realtà Però preferisco Sempre avere un giocatore In più Intanto gli attaccanti Ne abbiamo tre Non è un problema Di certo Averne Ma proprio in minuto Minuto Eccolo qua Infatti Ha accettato anche lui Perfetto Perfetto Nuovo 68 Lì circa E lui forza 92 contro 63 Perfettamente complementari Guarda Vediamo anche l'altro Che è arrivato Anche lui è un 63 Non è malacchio Non è malacchio Dovremmo vedere effettivamente Quale dei due è migliore Ovviamente in partita Perché qui puoi anche controllare Tutto Tutto Mi verrà un buon passaggio Perché mi è scesa La roba del manager Cosa ho fatto Mi è sceso a 77 Perché non ti ho fatto questo E figa Ce n'è dei tempo Siamo primi in classifica Interessante Qui abbiamo due su cinque Ottimo Cioè ci sta andando tutto bene Davvero siamo i primi in classifica No Vorrei vedere Niente Non me lo fa vedere Ehm Dov'è la classifica allora Sì siamo i primi in classifica Con dieci punti A pari merito con l'altra Ah Abbiamo battuto la prima Abbiamo battuto la Prima in classifica con noi Però in coppa Non in campionato L'altra volta Andiamo avanti Non penso Vediamo Magari arrivano qualche offerta Non so chi potrei vendere in realtà Ehm Vediamo Ehm Vogliamo capire qual è Allora Il tuo ruolo È di Non fregartene del tuo ruolo Perché non giocherai mai Capito Questo è il tuo bel ruolo Ti do Il giocatore per il turnover Se non ti piace Puoi stare lì Sei un giovane Che non ha una squadra Ehm Fottiti Scusami Accetti quello che ti do Un altro messaggio Intanto abbiamo Vediamo un pochino Offerta accettata E fatti Accettato subito Sare lì per il turnover Quando vuoi giocare Giochi Cioè gli pago una volta Lo stipendio E se ne possono andare Ah questo qui È il giovane In panchina È Orca puttana Anche il giovane In panchina In prestito Io li manderei via Sinceramente Anche se ma Sancai forte Quei due Non lo so se sono forti Non mi fido No No Non ancora Chi abbiamo in vendita Intanto noi Scusate Giusto per Perché siamo io Alla fine del mercato E non abbiamo nessuno in vendita Ci penso Mi Ok un paio Gli abbiamo messi Lui Gli è Gli è scaduto il prestito Ah Se è scaduto il prestito Posso anche Tentare di comprarlo Ma io L'ho appena cacciato Te ne rendi conto Non è che L'ho cacciato Per Tentare di comprarlo Direi proprio di no Abbiamo messo Quattro giocatori In vendita Non penso che Tenteranno Di acquistarmeli Però non si sa mai A proposito Ma scusate Il mio Il mio Acquisti I miei acquisti Non me li fai vedere tu Vero che mi mentesse il nome In ordine alfabetico Saprei come tentare Eccoci qua Abbiamo fatto Figa Come Come Ho fatto un'eccessione Per un milione E ho speso 175 mila Perché Perché Dovresti rompere i coglioni Certo Ho un budget Ovviamente Stipendi Che Va molto Oltre quello che Voi vorreste Probabilmente Vero però Ragazzi O gli stipendi O mi date più soldi Cioè Che cazzo È l'unico modo Per poter comprare A quanto pare Nessuno È venuto Hanno venduto Osilla Al Barcellona Per 91 milioni Di euro Mazza Che offerte A quanto pare Abbiamo finito il mercato Abbiamo fatto due acquisti Infortunio In allenamento Ahmed Tre mesi Scusa Tu sei appena arrivato Ti sei infortunato Per tre mesi In allenamento Mi stai prendendo Per il culo Dai Dai Su Eh infatti Non ho bisogno Di qualcuno Perché se Willy che gioca a destra Ah A Bera È anche in nazionale Voltre a essere infortunato Va bene Ah no Non è A Bera È Ahmed Porca Troia Vabbè Cazzarola Ma allora Quindi tu sei solo in nazionale Non sei disponibile Per quello Siamo un po' Nella merda Come sempre Vabbè Ahmed Oddio Posso far giocare Willick Che anche lui È un ottimo Centrocampista Eh Niente da dire Speriamo che questa nazionale Duri poco in realtà Perché Cazzo Giocatori ne ho abbastanza In panchina